E' un'altra, vai! E' tua! E' tua paracolta, ma sia rossa che sia paracolta. Si sente che è bella vecchia. Eh sì, anche perché il suono è diverso. E' esperto di calmarlo. A presto non mi fanno male. Sì, sì, ma è normale. Abbiamo avvisato abbastanza i nostri amici. Sì, sì, sì. Alex, Alex. Che fai? Alex, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Perché va a sbattere addosso le... Sono già un po' rovinate con le poste. Perché è una cosa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.